La Cina sapeva tutto già dalla metà di dicembre, ma solo il 14 febbraio ha dichiarato 1.700 operatori sanitari e medici infetti. L'accertato ritardo di comunicazione all'OMS giustifica una richiesta di risarcimento danni di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia da parte degli stati colpiti proprio in base allo statuto stesso dell'OMS. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, illustrando la mozione sulla richiesta di risarcimento danni alla Cina per la diffusione del Covid-19 in discussione alla Camera. L'Italia deve chiedere il risarcimento danni per la pandemia che sta distruggendo la nostra economia e deve mettere in discussione, nelle sedi opportune, la presenza della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché se non rispetta i parametri occidentali deve essere espulsa. Ha concluso Rampelli.